Oggi, 31 ottobre 2021, sono 10 anni che il nostro canale YouTube è aperto. Ebbene sì, sono 10 anni che siamo un'agenzia immobiliare digitale. E tutto questo è grazie a voi, ai vostri successi, alle vostre case in vendita, alle vostre visualizzazioni, alla vostra fiducia che ci avete dato e che continuerete a darci. Perciò festeggiamo assieme in questa giornata un po' particolare i 10 anni del nostro canale con questi numeri, che sono numeri veramente importanti, che ci danno tanta soddisfazione, ma soprattutto ci spingono e ci spronano a fare ancora meglio, a fare ancora di più. Grazie ancora a tutti e ci vediamo in visita!